Il corso di arti figurative si sviluppa su due ambiti, pittura e scultura. In entrambi i percorsi gli studenti acquisiranno le metodologie tradizionali e quelle dell'arte contemporanea nelle sue molteplici prassi progettuali. L'iter metodologico comprende l'analisi e l'elaborazione della forma pittorica. Il disegno sarà uno degli strumenti più importanti per rispettare la fase della progettazione e per dare forma alle idee creative, curando la struttura dell'immagine, gli aspetti tecnici e la presentazione del progetto. Gli studenti useranno diversi linguaggi che riscontriamo nell'arte antica e moderno contemporanea, con l'impiego delle tecniche a matita, pastello, carboncino, sanguigna, acquerello, tempera e acrilico, applicate alla presentazione del paesaggio, di animali e del ritratto. Sperimenteranno i supporti della pittura, carta, tela, legno e la relativa preparazione. Non mancheranno esperienze di progettazione a tema, modulo e motivi ornamentali o di tipo narrativo, come illustrazione a fumetto, ed esercitazioni del vero attraverso lo studio degli oggetti e dell'ambiente. Non mancheranno esperienze di progettazione a tema, modulo e motivi ornamentali o di tipo narrativo, come illustrazione e fumetto, ed esercitazioni dal vero attraverso lo studio degli oggetti e dell'ambiente. Realizzazione di opere pittoriche a cavalletto, murale o installazione su tema. Arti figurative cercheranno anche di salvaguardare l'artigianato artistico nel suo portato qualitativo, presente nel nostro patrimonio artistico tradizionale assolutamente da tutelare.